E' stata fissata al prossimo 7 novembre l'udienza preliminare a carico di 34 persone coinvolte nell'ambito della maxi-operazione antimafia portata nell'Agrigentino, denominata Icaro. L'operazione Icaro, scattata il 2 dicembre 2015, ha inferto un duro colpo alla cupola agrigentina. A portarla a segno sono state le squadre mobili di Agrigento e Palermo. 16 indagati sono stati arrestati tra Santa Margherita di Belice, Montevago, Ribera, Cattolica Eraclea, Cianciana, Montallegro, Portempedocle, Agrigento e Favara. Altri 18 sono a piede libero, alcuni agli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora o di presentazione alla polizia giudiziaria. Le ipotesi di reato contestate a vario titolo sono quelle di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsioni, riciclaggio, danneggiamenti, detenzione illegale di armi e munizioni, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, rapina aggravata e tentato omicidio. Lo scorso mese di agosto la DDA di Palermo, su indagine dei sostituti Rita Fulantelli, Emanuele Ravaglioli, Claudio Camilleri e Bruno Brucoli, con il coordinamento del procuratore aggiunto Maurizio Sala, aveva fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Adesso l'udienza.